Pettinino rosa Io forse so chi è la coniglietta Uh speriamo mi piacerebbe tanto a me la coniglietta Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi facciamo la seconda parte dello scarpucciamento delle airgolds Quante airgolds scarpucciamo oggi? Altre tre Allora una, allora due, allora tre Eccoli qua Ma scusa, vi starete chiedendo Ma la mia mamma quanto si lacca? Perché la mia mamma se la mette la lacca Ma quante bombolette ha? Ti finiscono subito Eh tantissima Però per questa airgozia devo ringraziare Happy Mi raccomando andatemi a cercare anche su Mega Wow Allora apriamo apriamo Questa Partiamo dall'assofi Allora vieni, dammi indietro le due Siamo pronti? Sì Via Vai Accompagniamola Uh è fucsia Guardate, guardate come il mega gomito lo sta facendo soffi Allora l'indizio L'indizio cosa dice? È il nodo che penso, ovvero top note Ah l'acconciatura, è quella conciatura, vediamo un po' tutta così No così, è partito, è tutto, è un nodo tutto sulla testa Va bene Allora apri Vediamo chi sarà Allora la checklist e possiamo farla volare qua tutti i sacchettini del mondo Vediamo un po' Ah, eccolo un altro lì Perfetto Iniziamo dai bigotini Allora Uh è rosa, secondo me non è un doppione Oh oh, pettinino rosa Io forse so chi è la coniglietta Uh speriamo, mi piacerebbe tanto a me la coniglietta Tanti, vorremmo tanto trovare Eh mi sa che è la coniglietta, sai Oh oh, diciamo vedere intanto abbiamo trovato il biberon Questo qua Vediamo un po' chi sarà È Ups Baby È Ups Baby Sofì, ho visto il video Ma quel video lì è dei tempi della mamma, non di Sofì Eh, Britney Spears Le scartettine Mi piace la cosa che fanno le LOL Che riproducano il mondo reale Eh sì, qualcuna è ispirata È un po' come il mondo reale Qualcuna è ispirata alla Madonna No, a Madonna A Madonna Qualcuna è ispirata a Marilyn Monroe Qualcuno Qualcuna A Prince Le prime della Big Surprise Erano ispirata a Prince Andiamo a vedere cosa scartuccia Sofì Cosa ci sarà lì dentro? Uh che carina col pompon Tutte rosa Eccole le nostre scarpette Vai mettilele insieme a tutte le nostre accessori Allora, facciamo Io un'idea ce l'avrei di che cosa manca a Britney Quello zainetto forse Il più bello zainetto del mondo Gli zainetti fatti così mi piacciono un sacco Aspetta, ecco le aluce Ecco le aluce È come quello di Stagold Però è fuzia Cambia dei valori E ha le alette Argentate Adesso sta lei Aspetta, 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 aspetta Sofì Oh, lo vogliamo vedere Ecco Oh, oh Eh, sì Adesso non è tanto Sofì sa chi è Va veloce Strapide Ressenta Eccola La nostra Britney Wow Però di solito non hai i capelli così inamidati È tanto inamidata Vediamo un po' Ma poi hanno una cosa diversa Eh, sono un po' ricci Invece delle code giù Che hanno piano Wow È vero Bisogna vestirla così Eh sì, mettimi un vestitino Grazie Che se no mi sento un po' a disagio Quando le abbiamo aperte Tutte le mettiamo nel freezer Ve le facciamo vedere Tutte cambiate Oops, baby Didi The game Che carina che è Ha proprio un'espressione diversa Rispetto alle altre Sofì No, non ti sembra che abbia un'espressione diversa È super guanciottosa È super bravissima Allora È super guanciottosa La nostra Oops, baby È super guanciottosa Mi raccomando Usate l'hashtag Super guanciottosa Perché il fungo è tutto E poi tutto il fungo è così Adesso arriva Aspettami che sistemiamo tutto Seconda ball È in arrivo, eh Seconda Via Ecco la seconda Siamo pronti Il mondo Color salmone Solo quelle dorate Guardate Guardate questo Dove si pagano Le fette forme di pettine Avete visto? Non l'avevo mai notato L'ho notato solo adesso Sofì si accorge di tutto Non gli scappa niente Fate attenzione Perché Sofì guarda tutto Vede tutto Scrive tutto Com'era Sofì? Però ce l'abbiamo fatta E' un top note Sì non è top note Allora un altro indizio Adesso lo vediamo Cos'è successo? È rimasto stacco con la... C'è scritto Pixie Cat Cat è taglio E Pixie aspetta Oh mamma mia È verde lei Sono curiosa È Splatter! Super spoiler Appena aperto il biberon Sofì ha già capito È viva! Quindi sappiate che Quando trovate un biberon così Questo è l'effetto che vi fa Andiamo a vedere gli stivaletti di Splatter Vediamo un po' Ci intanto ha aperto il biberon Sono tutti macchiati come al solito È perché Splatter dipinge Sì è per questo che si chiama Splatter Se non ci chiameremo Splatter Eccoli bellissimi i suoi stivaletti Nel frattempo io vi faccio vedere Tutte le cosine di Splatter Anche i suoi stivaletti Che carino! Perché poi questo cambierà colore! Il super fiocco di Splatter! Molto bellissimo! Bellissimo bellissimo! Poi il vestitino! Il vestitino Sofì! Il vestito tutto coloratissimo! Super mega coloratissimo il vestitino! Io guardate! Anche io! Eccolo! Sicuramente anche io! È tutto giallo! Che cosa succede? Che bella! Volevo togliermi il capo Ma gli ho tolto tutto! Gli hai tolto tutto! È saltata fuori di precotenza lei! Vedo tutto un colorato! Beviamogli la fascettina Che serve per tenere bene i capelli dentro! Sono bellissimi! Sono tutti colorati! Allora faccela un po' vedere la tua nuova... No! Non la scompigliare! Scusate! Adesso la pettina! I miei vestiti me li volete dare? Un attimo! Sì ma volevo salutare il team ciungatti Sofì! Aspetta ma non nuda! Non nuda ragazzi! Non nuda! Non si saluta il team ciungatti nudi! Ci si veste! Ci si imbelletta! Ci si mette un bel fiocco sulla testa! E poi si saluta tutte le ciungattine! Ciungattini! Scusate eh! Sono un po' spettinata! Ma non resistevo! Vi volevo far vedere quanto sono adorabile! Penso che noi dobbiamo prenderne un'altra! Sofì guarda! Se trovo un doppione splatter sono la bambina più felice del mondo! Perché splatter? Tutto un bacio! Guarda però! Mi daresti il mio cerchietto Sofì? Sì un attimo! Mi daresti il mio cerchietto Sofì? Sì! Allora guardate! Mi mancano le scarpe! Il cerchietto però Sofì va messo così! Ma è l'incontrario! Ah allora va messo così scusate! Va messo così! No! Vai! Ci bella che è! È davvero davvero adorabile lei Sofì! Molto! Sono d'accordo con te! Sofì siamo pronti? Dopo Ups Baby! Dopo splatter arriva la numero? Tre! Eccola! Eh questa! Questa facciamo il gommisolo! Di che colore è questa bolla Sofì? Non lo so! È d'oro! Firma! Sì! Un'altra bolla d'oro! Non ci posso credere! Speriamo! Sì! 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 Quella bolla dorata! Ce la puoi fare Sofì! Escolala! Via! Ah! Via! Adesso deve riuscire! Sì! 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 L'indizio! L'indizio! L'indizio è taglia i capelli! Uh! C'è Pixie Cat! Come prima! Ah! Ci sarà qui dentro! Un'altra LOL senza capelli! Oppure! Oppure ci sarà Betty! Betty! Chi lo sa! Cioè Betty è assicurato! È assicurato! Sofì vorrebbe trovare qui! Di solito! Ah! Di solito si avverano sempre i desideri di Sofì! Qui c'è un sacchettino! Però! Uh! Facci vedere la la! Aspetta! Però come si avviene? No! Non è Betty! Vabbè! Allora vediamo un po'! Vigodino? Sì! Vigodino! Oh! Io sono! Non hai capelli questa! È una LOL senza capelli! È una Queen! Sofì! Che biberone! Vediamo un po'! Nero e fucsia! Fucsia? Eh! Bravissima! Dami un po'! È un ciliegio un pochino più rosa! Però il tappo è nero brillante! Sì! Poi! Poi! Che occhiali! Wow! Accidenti! Questi ci piacciono eh Sofì! Attenzione! Questi ci piacciono! Hanno la forma dei raivan! Aha! Sono col bordo dorato! Vedete? Loro sono là dentro che spezzano! Qua ci sono gli indizi e il biberon e lì dentro c'è... Wow! Che scarpe! Super brillanti! Eccole là! Sì! Ma non è una cosa piccolina! Una cosa piccolina! Ah! La fascia! La fascia! La fascia! La capitano! È l'altra Lara mamma! È l'altra Queen! È l'altra regina! Eccola la fascia dorata della regina! Allora, vediamo se non riesco ad aprire i giacassini! Wow! Sono dei glitter arcobaleno! Sono... Questi sono neri neri! Glitter di tutti i colori! È bellissimo! Sofì vorrebbe me! Avete visto come sono strana? Sono trasparente e glitterata! Ma queste cosa sono? Orecchie o corna? Eh? Ma tu fai parte dei macciugatti! È un unicorno! Un unicorno! E c'è il corno! Ah c'è il corno! Hai ragione! Vediamolo un po' il corno! Corno! Bello! Tirò qui su! E adesso vedi! Ecco! Ecco! Un occhio! E... Due occhi! Due occhi! Tre occhi! Ah no! Basta! Occhi! Poi... Uuuh! I guantini glitter! Eh! Poi Sofì la mamma ti spiega a chi è ispirata questa LOL! A chi è ispirata? E... Togliamo di prima questo! E benvenuta a... Shimon Queen! Uh che carina! È bellissima! Guarda che nella checklist non gli rende giustizia per niente proprio! Bellissima! Ragazzi! Allora! Parliamone! Guardatela! L'unica cosa che la rende perfetta... Guardate tutti questi capelli! Sono i capelli davanti! I capelli davanti! Uh c'è anche il... È vero! Guardate! Poi ha il guantino! Perché questa LOL è speciale! Come l'altra Glamour Queen era ispirata a Marilyn! Sì! Questa è ispirata! Simone Queen è ispirata a... A chi è? A Michael Jackson! A cipicchia Michael Jackson! Eh sì! La generazione che gioca con le LOL è un po' giovane forse non so... Allora dovrebbe essere un po' giovane! Allora dovrebbe essere un po' giovane! Se lo ricordi? Eh ma queste sono le femminucce! Poi arriverà la serie anche dei maschietti delle LOL! Sono pronta? Vi piaccio? Però Sofì con gli occhiali sembra più un maschietto! Appunto infatti con gli occhiali sembra maschi! Senza occhiali è una femmina! È una femmina ed è molto carina! Ed è strabile! Sì sì sì! Eccole là tutte e tre al sicuro! Io vorrei sapere Sofì! Lei! Ah splatter è la tua preferita! Però vogliamo sapere anche qual è la preferita del finciungazzi! Sì! Dove glielo lasciamo? Aspettate arriva il cane! Dove glielo lasciamo il sondaggino? Lassù! E invece? Yeah! E voi dovete votare la vostra preferita eh! La vai via! Perché poi vi diciamo che vince! Sì! Va bene? Adesso noi andiamo a metterle un secondo in freezer e poi ve le facciamo vedere le due soltanto che cambiano colore! Sì! Vero? Ma non le mettete nell'acqua! Mettetele nel freezer! Mi raccomando eh! Sì sì sì! E adesso vediamo il cambio di colore! Allora abbiamo messo guardate tutto nel freezer! Anche vestiti perché non sapevamo che cos'è che cambiava! Britney! Li sono spuntate dei bellissimi pantaloncini con un topo con scritto Bye Baby! 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 C'è anche l'ombretto rosa secondo me! L'ombretto le ha spuntato invece a lei! Le ha spuntato una meravigliosa tutina da piton! Allora la tutina della pittrice! Ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto! Mettete like! Iscrivetevi al canale YouTube! YouTube! E attivate la camera da tindon tindon e ciao! Ciao!